Dopo oltre un anno e mezzo dall'istituzione della rete metropolitana Sarda e dopo la negazione del riconoscimento a Sassari di città metropolitana, il primo cittadino riferisce in Commissione Urbanistica siamo ancora in una fase prettamente interlocutoria. Il Vice Presidente della Commissione, Manuel Alivesi, chiede dunque all'amministrazione comunale che cosa si spera di realizzare fino alla fine del mandato, visto che manca solo un anno e mezzo, e considerato che non si è visto ancora nessun risultato concreto, a parte le piste ciclabili, in una situazione di degrado generale. Si tenga presente, prosegue il Consigliere di Forza Italia, che Nicola Sanna è stato assessore alla programmazione fin dal primo mandato della Giunta a Ganau e che sono trascorsi inoperosamente tre anni e mezzo dall'inizio della sua amministrazione. Mentre la rete metropolitana di Sassari ad oggi non è riuscita a concretizzare niente, prosegue Alivesi, la città metropolitana di Cagliari ha fatto incetta di centinaia di milioni, frutto di quel patto per la Sardegna stipulato da Renzi e Pigliaru. Il Consigliere di Forza Italia conclude chiedendo dove sono finiti i quasi 3 miliardi di euro promessi alla Sardegna e di questi i 500 milioni che sarebbero dovuti arrivare a Sassari.